Voleva che mi liberasse il figlio, ma ti rendi conto? Come se fosse un gioco tra i ragazzi. Cioè tu me l'hai arrestato e tu me lo liberi. Ma dove cazzo crede di vivere questo? Eppure è uno che ne ha fatte di cose, non è mica nato ieri. Solo che quando c'è di mezzo un figlio evidentemente si diventa tutti dei coglioni. Perché non lo incontra e ci parla? Vuole solo sapere come stanno le cose. Lo dobbiamo aiutare Vinzi. Mi preferisco aiutare quel poveraccio lassù. Quel poveraccio lo può aiutare solo il Padre Eterno perché al 90% non ce la fa. Ah, accidenti. Sei diventato bravo a dire le cazzate eh? In rianimazione bisogna dosare tutto. Le medicine e la disperazione. E comunque fatti furbo con Gili. Quello c'è un pelo sullo stomaco alto così. Vivo in mezzo ai casini tutti i giorni. Non scontrizzati. Vivo in mezzo ai casini tutti i anni Sì! Vivo in mezzo ai casini tutti i giorni. Grazie a tutti